E' stato colpito da un proiettile ad aria compressa, Simba, un gattino che vive a Giarra in via Principe di Piemonte alle spalle del quartiere Satellite. Come racconta la sua proprietaria Alessia Gullotto, Simba era uscito di casa di prima mattina intorno alle 6 per poi tornare zoppicante e accasciarsi a terra. I proprietari inizialmente pensavano fosse stato vittima di un incidente stradale, il micetto perdeva sangue e aveva delle escoriazioni. Solo dal veterinario hanno capito cos'era davvero accaduto al loro amico a quattro zampe. Era stato colpito da un proiettile partito da una pistola ad aria compressa. Incredula Alessia Gullotto, sono in buoni rapporti con tutti i vicini, dice, e viviamo in pieno centro abitato, non in aperta campagna. Come ci si può sbagare sparando a un gatto? E' stata presentata denuncia ai carabinieri, ma come gli stessi militari hanno spiegato, le pistole ad aria compressa possono essere detenute in casa senza doverle denunciare. Simba sta male e non si sa se sopravviverà, per ora i proprietari possono solo aspettare che scampi il pericolo sapendo però comunque di abitare vicino a qualcuno così crudele da divertirsi sparando ai gatti. E che forse non sa che il maltrattamento di animali è un reato previsto dall'articolo 544 terra del codice penale ed è punito sia con multe che con la reclusione.